Buonasera a tutti, oggi come preannunciato parliamo del gruppo degli ambulanti, formato da otto membri, non da sette come ho detto erroneamente alla fine della scorsa diretta, faremo però anche un accenno a Crescenzo del Vecchio, che più anziano degli altri membri fonda l'Humor Power e almeno in un primo periodo l'azione dell'Humor Power si intreccia con quella degli ambulanti, tant'è vero che il primo nome della formazione, il nome iniziale della formazione è Humor Power ambulante, ma andiamo con ordine, partiamo appunto da i membri, gli otto membri degli ambulanti, chi sono i nomi in rigoroso ordine alfabetico e partiamo dall'anno, siamo alla fine del 1974, quindi gli anni in cui più o meno si formano la maggior parte delle aggregazioni che stiamo considerando. I nomi sono Marta Leonat, Carlo Fontana, Anna Maria Iodice, Ernesto Iannini, Claudio Massini, Silvio Merlino, Roberto Vidali e Giuseppe Zevola. Questi soggetti hanno in media circa un 10-15 anni in meno rispetto a quelli che sono gli esponenti degli altri gruppi dell'arte nel sociale o degli altri operatori di cui solitamente ci stiamo occupando. Sono giovanissimi, provengono dall'Accademia di Napoli, si incontrano all'Accademia di Napoli, presso la cattedra di pittura di Armando De Stefano, anche se Armando De Stefano non c'entra praticamente nulla con la poetica degli ambulanti, però Armando De Stefano aveva un assistente, di cui ho fatto il nome prima, che è Crescenzo del Vecchio, il quale è importante perché era già un artista che aveva alle spalle un certo passato e che funge assolutamente da stimolo per gli ambulanti per lo sviluppo della loro poetica, anche se poi c'è comunque probabilmente nello sviluppo della loro poetica va individuata una grande autonomia, una grande freschezza, una grande capacità di essere originali e originari, tornando in qualche modo a certe radici, lo vedremo quanto la poetica degli ambulanti è radicata nella cultura popolare, pur essendo un'arte, non vorrei dire di avanguardia, perché per me l'avanguardia ha una nozione molto specifica, però un'arte, o almeno una pratica artistica verso la vita e che quindi si inquadra comunque nell'idea di arte che si scioglie nella vita quotidiana dell'avanguardia, pur essendo una pratica assolutamente di grande originarietà, di grande spirito innovativo, la loro, quella di ciascuno, perché appunto si tratta di un gruppo che però, in cui ognuno trova la propria specificità, talvolta agiscono come soggetti divisi, dividendosi, andando ciascuno a fare le sue azioni per le strade, altre volte invece agiscono insieme, in realtà più spesso divisi, anche se poi si riconoscono come ambulanti. Quali sono le caratteristiche del gruppo degli ambulanti? Sicuramente la fuoriuscita nello spazio urbano, questo è importante, onde instaurare attraverso le loro azioni e attraverso i loro oggetti, perché insomma loro hanno anche una componente fabbrile molto importante, oggetti costruiti di fattezze povere, di materiali poveri che però servono a instaurare un dialogo più organico, più proficuo, più che confluitore, qua potremmo parlare proprio di tentativo di intercettare la vita, la vita ordinaria, e in particolare la vita ordinaria della città di Napoli, che è già, come diceva Pierpaolo Pasolini, un teatro a cielo aperto, questa è una cosa che disse a Claudio Catanese, mi raccontò Claudio Catanese, esponente del teatro comunitario di Toni Ferro, e quando appunto Toni Ferro e il teatro comunitario è qualcosa che viene un po' prima degli ambulanti, quando gli chiesero, quando Pasolini incontrò Toni Ferro e il suo gruppo del teatro comunitario, Pasolini rimase stupito, perché disse Napoli è già un teatro a cielo aperto, come fate voi a fare teatro di strada? E ora io non parlerei proprio di teatro, anche se gli ambulanti comunque si avvicinano anche al teatro, dialogano anche col teatro, però quello che è importante appunto è il loro voler dialogare e dialogare con tutti, indipendentemente dal livello culturale, il volersi inserire nelle situazioni nelle situazioni che hanno già una carica estetico-performativa forte nell'ambito delle strade di Napoli, della provincia, e poi come vedremo in particolare, specialmente per alcuni artisti, l'area Flegrea, tra Fuorigrutta e Magnoli, è molto ricorrente, è un particolare territorio di ispirazione per molti artisti, anche perché alcuni venivano da lì, penso ad Anna Maria Iodice, che soprattutto lo sappia, altri ci vazzicavano, e poi c'era la questione dell'Italcider, nonché della Nato a Magnoli, insomma che in qualche modo la loro azione talvolta assume degli aspetti anche di denuncia, come vedremo. Ma facciamo un attimo un passo indietro e parliamo un attimo di Crescenzo del Vecchio, Crescenzo del Vecchio che con l'Humor Power, in particolare con un'operazione come quelle delle muricciolaie, fa qualcosa che è in uno spirito molto vicino a quello degli ambulanti, e appunto non a caso poi, almeno nella parte iniziale della storia degli ambulanti, Crescenzo del Vecchio, in qualche modo un loro punto di riferimento all'Accademia, è molto vicino agli ambulanti. Crescenzo del Vecchio però era un po' più anziano, e aveva fatto già esperienze importanti nell'ambito dei gruppi sperimentali napoletani. Innanzitutto era stato membro del gruppo studio proposta 66, P66, quello creato da Luca, di cui ho parlato ampiamente nella contestazione dell'arte, nel libro precedente a quello a cui mi sto riferendo, quindi era un collettivo appunto formato da Luca, che aveva dentro personaggi, alla fine degli anni 60, personaggi come Peppe Pappa, come Gabriele Marino, come Peppe Desiato, come Quintino Scolavino, e poi appunto come anche Crescenzo del Vecchio, il quale poi era stato anche una sorta di pontiere tra il gruppo studio proposta 66 e il gruppo studio proposta 66 Terra di Lavoro, che era in qualche modo la versione casertana, nei quali c'erano i vari Attilio del Giudice, Andrea Sparaco, insomma esperienze di grande importanza per il territorio e non solo. Che cosa fa in particolare? Cosa sono queste muricciolaie? Le muricciolaie sono delle operazioni nelle quali Crescenzo del Vecchio prende i cortili di terra di lavoro, perché lui appunto era casertano, ora non so se è proprio di Caserta o della provincia molto vicina a Caserta, e comunque dialoga con gli abitanti del cortile, che possono essere contabini, operai, artigiani, sopproppopati, disoccupati e quant'altro, cerca di raccogliere le suggestioni tanto ideali, tanto le tecniche materiali che gli vengono offerte dagli abitanti del cortile stesso e insieme a loro costruisce dei manufatti o anche solo dialogo, spesso uso delle fotografie, delle fotografie che gli abitanti stessi del cortile gli danno, lui le affigge sui muretti del cortile, e in generale, insomma, come scrive lui stesso in una sua memoria, attraverso il dialogo e la loro cooperazione e la loro presenza, noi realizziamo fatti artistici nuovi e diversi. In conclusione, il tutto intende essere un momento di metodologia, di comportamento e un momento di autodidattica, dove chi è altrimenti sempre costretto culturalmente a subire, ribaltando il ruolo, diviene a sua volta protagonista, riscattando un proprio patrimonio culturale operativo, quindi un'operazione anche dalla forte componente politica di classe, come si direbbe una volta, insomma, le classi subalterne che vengono, dalle quali l'artista si avvicina e cerca in qualche modo di essere semplicemente, appunto, come diceva lo stesso Crisporti nelle sue teorizzazioni, un collettore di quella creatività, di quella creatività che quindi deve diventare protagonista dopo secoli e secoli, in cui è stata sempre subalterna, è stata sussunta, è stata repressa, è stata strumentalizzata, e invece no, deve essere messa in primo piano. La sua, sì, io in effetti, però raccogliendo delle sue stesse sollecitazioni, l'ho definita una pittura in dialetto, insomma, un fare visivo, un plasmare visivo dialettale, perché, lui continua dicendo, può sembrare restringersi il campo, chiudersi in un piccolo mondo, invece no, credo che l'esprimersi in vernacolo della pittura sia un fatto altamente positivo, e non per l'auto-tomania ricorrente, ma perché il ritorno alle radici in un momento come questo può essere altamente positivo e meditativo, ma non vi accorgete che tutto sta crollando, la vita sta morendo, la follia uccide trasversalmente l'arte? I valori umani sono quasi scomparsi, si uccide per nulla, l'uomo ormai male poco, e allora a che serve la ricerca? Lo sperimentalismo. Il concetto di concettuale a poco e a nulla. Voglio giocare, risvegliare sentimenti, sollecitare il sorriso, voglio fare il frate zoccolante, girare per i portili, chiedere ospitalità e pane cafone, voglio giocare, appiccicare le foto di famiglia sui muri, vendere lucernari e comete della speranza, dare fortuna e rispondere alla vita che può esserci ancora qualcosa da fare, che si può vivere ancora di piccoli gesti e di piccole cose. Vedete, a me piace molto questo passaggio di Crescenzo del Vecchio, che è uno dei pochi artisti che tra l'altro non ho avuto la fortuna di conoscere, dei pochi artisti che sono coinvolti in questa storia, perché lui è morto esattamente, è scomparso esattamente 14 anni fa, era l'estate del, quasi 14 anni fa, credo fosse fine giugno, proprio di questi tempi, era l'estate del 2006, io stavo iniziando a studiare queste cose, stavo iniziando a preparare degli incontri che poi fece allora con Di Fiore, De Falco, Dalisi, con Rosa Panaro, e provammo a contattare anche lui insieme a Michele Ciardiello e Franco Riccardo, che allora mi aiutavano, e lui disse, io non sto poco bene, ne parliamo più in là, e poi però, insomma, è andata come è andata, e nulla. Mi dispiace non averlo mai potuto incontrare. E' molto bello appunto il fatto che lui, come del resto tanti altri artisti in questo periodo, e come del resto anche i suoi fratelli minori ambulanti, diciamo così, guardino l'arte con un estremo senso di gratuità. L'arte è divertimento, qualcuno ha detto che in questi tempi che gli artisti fanno divertire, questi artisti qua, piaccia o meno, prima di tutto si vogliono divertire, poi vogliono anche divertire, ma non divertire in maniera banale, vogliono divertirsi perché la vita, nel senso più pieno, deve diventare appunto tale, deve diventare intensa, in questo senso divertirsi, deve essere vissuta nel suo senso pieno. E le piccole cose, i piccoli gesti, diventano, per chi ne sa godere, ovviamente, qualcosa di prezioso. La fragranza, pensiamo alla fragranza, alla croccantezza del pane cafone, delle campagne, dei portili di terra di lavoro, tutto è veramente, è legato a una povertà di mezzi, una povertà di mezzi che però è sempre, ha sempre quell'altro risvolto che è la ricchezza, la ricchezza inventiva, la ricchezza creativa, il piacere di ridere, il piacere di riconoscersi nell'incontro comune tra esseri umani che hanno esigenze simili e che appunto mettono da parte in qualche modo certe incomprensioni, la supponenza, il divismo, e invece si riconoscono anche come esseri umani e anche come classe, come classe nel senso più alto del termine, come classe subordinata che in qualche modo espone il suo orgoglio secolare. C'è molto in questo, un orgoglio delle classi subalterne, perché le classi subalterne in realtà sono sempre, finalmente devono nella visione di Crescenzo del Vecchio che non votava il Partito Comunista, votava il Partito Socialista pre-Gracsiano che però, insomma, non è che nelle certe sue declinazioni fosse meno radicale del Partito Comunista e aveva quindi una visione comunque legata a un'idea di sole dell'avvenire, legata a un'idea di riscatto, un'idea di ripresa di parola, di azione, di autodeterminazione da parte delle classi subalterne con una visione anche molto libertaria e forse era questo il motivo per cui lui non era vicino al PC perché comunque lo vedeva portatore di un socialismo più autoritario, ecco, almeno sto parlando ovviamente ancora dell'epoca fino alla prima metà degli anni 70, insomma. Tornando però agli ambulanti in sé, io partirei da un documento del 1980 che gli ambulanti presentano all'Expo di Bari sì, siamo nel 1980 quindi quasi alla fine dell'esperienza degli ambulanti però è un documento che è capace di darci bene l'idea della poetica degli ambulanti però quanto dico poetica io credo che nella poetica degli ambulanti ci sia anche proprio non un progetto però un'intuizione politica sicuramente come poi spesso avviene il poetico e il politico si intrecciano a vari livelli c'è una cosa molto importante da dire a proposito della politica che la contrapposizione degli del fare degli ambulanti ovviamente è a tutte le pratiche ancora legate allo studio alla galleria insomma all'oggetto che non entra all'interno di una dinamica performata ma c'è anche una forte esplicita contrapposizione rispetto a quelle che sono le forme più diciamo letteralmente più evidentemente politicizzate di questi tempi l'arte di propaganda quella per capirci legata a Luca o anche al Franco Cipriano insomma a Napoli sono i maggiori esponenti ma comunque a Napoli in campagna sono i maggiori esponenti ma comunque poi presente a quell'epoca in tutto il mondo anche oltreoceano in altre parti d'Italia pensiamo a Piero Gilardi ecco è poi presente ad un livello non meno interessante sicuramente meno interessante nella stessa tra gli stessi esponenti dell'Accademia di Napoli come vede c'era tra gli stessi studenti dell'Accademia di Napoli c'era chi faceva falci e martello così insomma come se fu in maniera quasi meccanica senza ispirazione proprio perché legato specificamente ad un'urgenza politica del momento ma poi non c'era una vis creativa falci e martello o altri simboli del genere e questa cosa che vi ho detto è importante perché tutti gli ambulanti reagiscono anche a questo modo di fare non perché antipolitici ma proprio perché la loro è un'idea diversa della politica che sfida del resto sul piano della radicalità la stessa arte di propaganda di questo periodo cosa se io leggo questo documento dell'Expo di Bari vediamo che altro che in politici voglio dire c'è molta visione e coscienza politica nel loro pensiero nelle loro analisi siamo costretti a vivere in spazi grigi scrivono gli ambulanti non stimolanti poco creativi essi sono il simbolo delle coscienze atrofizzate il cui unico scopo è quello di esercitare il potere come fine viviamo di conseguenza in spazi plasmati da altri che non tengono conto dei bisogni della collettività la qualità nelle cose e nelle azioni è assente la sua mancanza si avverte quotidianamente quel poco che c'è non si avverte percorriamo sempre gli stessi spazi monotoni anonimi che ci vengono imposti l'ambiente urbano così come è configurato soffoca i nostri impulsi creativi e diventa sempre di più l'espressione dello standard e nel migliore dei casi del funzionale nessuno si preoccupa più di plasmare gli spazi a immagine e somiglianza dei valori umani e il valore di progettazione viene sempre più svirilizzato risobrutto e approssimato da interessi che non hanno niente in comune con gli scopi della cultura la città offre quotidianamente l'immagine di uno spettacolo scadente non c'è più posto per la creatività per l'espressione solare di coscienze in espansione per il gioco i bambini in città non esistono non si vedono mai la città è dei grandi degli uomini d'affari dei governanti dei burocrati e dei commercianti gli individui del domani vengono abbandonati in quei grandi contenitori umani che definiamo appartamenti e si sono costretti ad alimentarsi nella loro solitudine di immagini continuamente propinate dai media ecco io credo che qui ci sia molto anche del tipo di critica che spesso ho portato avanti da Dalisi soprattutto la critica al grigiore delle città al funzionalismo è anche la tematica dei bambini perché è anche da lì si dice un po' la stessa cosa in un passaggio dei suoi scritti dice la città è pensata per la città i palazzi sono pensati per le abitazioni sono pensati per gli adulti invece i bambini è come se fossero i grandi dimenticati dagli architetti dagli urbanisti dai pianificatori tra l'altro ma neanche a farla apposta questa è una frase che si sente ripetere ultimamente molto spesso quando per esempio si parla di scuola di come è stata gestita in Italia e di come verrà gestita in Italia l'emergenza covid nel senso che si è detto che per tanti motivi i bambini sono stati i bambini gli adolescenti ma i bambini forse i grandi dimenticati e del resto potremmo ampliare un po' il discorso e potremmo dire che non solo i bambini vengono dimenticati ma anche come dire molto spesso il bambino che trasversale universale che esiste nell'adulto viene represso viene dimenticato quello che fanno gli ambulanti è proprio riportare alla ribalta questo questo bambino insomma l'attività degli ambulanti forse più ancora di quella di altri di altri operatori artisti operatori nel sociale di questo periodo che stiamo esaminando ricordano molto la creatività dei bambini forse perché sono più giovani o forse anche no insomma però sta di fatto che secondo la mia analisi è così poi c'è anche rispetto a Dalisi c'è anche un discorso sui media le immagini propinate dai media nel 1980 diciamo che ci si avvia all'overdose di immagini date dalla televisione commerciale e poi dopo un po' chiaramente dal da internet con la sua con l'ingrossarsi diciamo così dell'infosfera quindi insomma sicuramente queste parole degli ambulanti sono anticipatrici di fatti che verranno poi negli anni che sono stati considerati del riflusso c'è da dire anche che del resto il riferimento a Dalisi non è assolutamente peregrino perché c'è un artista in particolare degli ambulanti ovvero Ernesto Iannini che era stato spesso al Traiano e aveva osservato l'azione di Dalisi e ovviamente ne aveva tratto un grande beneficio per la sua formazione questo documento degli ambulanti continua e viene dato una sorta no citerò un altro un altro documento degli ambulanti non è quello dell'80 però lo cito come una sorta lo intendo come una sorta di antitoto alla denuncia di questa città di questo ambiente disumanizzato che gli ambulanti fanno nello scritto del 1980 e dicevo l'antitoto se però inteso un po' sfrontato dall'aspetto didattico e dallo specifico riferimento alla pratica architettonica è in effetti abbastanza simile anche questa volta a certi pensieri di Dalissi anche se poi ovviamente c'è molto di insomma di proprio che non direi ecco fino a un certo punto direi questo somiglia a Dalissi questo somiglia a qualcun altro però io ci vedo anche un eco di Giuseppe Desiato Giuseppe Desiato che era un amico pure di Annini e credo anche di altri ambulanti e Giuseppe Desiato di cui prima che finiranno queste dirette dovremmo parlare ampiamente io spero di poter dedicare una 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 diretta specificamente a lui però appunto questi Echi Desiato sono sfrondati comunque di quell'immaginario sessuale troppo caricato che sappiamo essere caratteristica di Desiato perché in effetti gli ambulanti da questo punto di vista sono permettetemi l'aggettivo sono casti nel senso che hanno l'immaginario dei bambini non c'è mai nulla di sono casti ma non caustici non c'è mai nulla dell'immaginario provocatorio di Desiato è tutto molto più leggero se vogliamo anche un po' calviniano calviniano buzzatiano però non c'è una parte oscura negli ambulanti non c'è una parte notturna gli ambulanti sono molto molto solari e infatti lo vediamo da da questo da quest'altro testo che lo vedo un po' come la risposta che gli ambulanti danno a quella critica che ho fatto ascoltare prima e dice così noi ambulanti abbiamo utilizzato la parola scritta il colore l'oggetto di notevoli dimensioni i caratteri fantastici con oggettini da vendere ali bianche colore da distribuire note musicali da diffondere sole luna pesce costruiti con pezze e materiali poveri ricicolanti liberamente per le strade mercatini dell'elemosina e vendita di diploma di bontà melanzane e calzini frutti di carta pesta e fumo semplice fuochi notturni trombe trecentesche e aureole di santi abbiamo dipinto panchine venduto pietre e mummiette polaroid abbiamo portato striscioni sotto i cancelli di piazza municipio abbiamo danzato di notte sul grande fondale di via Caracciolo davanti a un pubblico di automobilisti sfreccianti siamo andati sulle spiagge corrose dagli acidi dei cantieri siamo usciti dai portoni dei paesi operazione terzigno 1977 in processione alla scoperta di spazi ma abbiamo incontrato anche delle difficoltà specialmente nell'impostare le basi per un dialogo con la gente per stabilire degli incontri più durativi niente c'è da dire che molto si gioca sull'effimero negli ambulanti non c'è questa idea di solidificare in qualche modo la loro prospettiva no è il bene e il male forse qui c'è un piccolo lamento per non riuscire a fare questa cosa a volte danno anche l'idea di non volerlo fare di voler lasciare quell'aspetto effimero del resto ambulante e voglio dire è il contrario del venditore ambulante è qualcosa di appunto di come dire un'attitudine soft qualcuno che gira che non si radica tutt'altro è il contrario della grande catena di supermarket potremmo dire oggi ora come ho descritto io dicendo ancora qualche parola in generale prima di addentrarci nell'analisi poi del lavoro dei singoli ambulanti perché ognuno ha una sua poetica che poi messa insieme forma la poetica di tutto il gruppo io credo che in qualche modo ci sia in generale un immaginario ludico da cameretta di bambino di un tempo cioè di un tempo pre-anni ottanta ecco un bambino che non è ancora stato bombardato dalle pubblicità della Mattel come me per esempio io sono stato un bambino negli anni ottanta oppure di qualche altra multinazionale dei giocattoli e di fronte a questa povertà supplisce con materiali poveri e con la sua sovrabbondante fantasia in qualche modo un pochino si può gettare anche un ponte con quelli che erano i bambini di Vincenzo De Simone del Teatro Contadino vi ricordate grande creatività legata invece ad una grande povertà di mezzi anche se qui forse un po' più colorato ecco e poi sono dei bambini grandi De Simone aveva anche i bambini piccoli per quanto loro coinvolgessero tutte le persone magari anche i bambini comunque voglio dire gli operatori erano dei bambini grandi e lo dico con grande affetto nel senso che anche io penso di essere un bambino grande almeno spero ora lo stimolo si trova proprio nella peculiarità di quei materiali pensiamo a un bambino che guarda la natura con i suoi fiori i suoi frutti i suoi animali ed è naturalmente spinto a limitare tutto ciò con il disegno con i pastelli con i cartoncini con i pezzettini di legno e con quant'altro diciamo ha a disposizione i suoi genitori li rendono disponibili ecco io in controluce vedo questo nelle operazioni degli ambulanti però l'elemento di scarto consiste nel fatto che un bambino creativo che fa cose diciamo con tante lavoretti ma bello insomma standardizzati da una certa didattica no perché anche a scuola il ricordo facevi lavoretti alla fine te li facevano fare spesso tutti uguali se tu lo facevi un po' diverso ti deridevano quello non ha saputo fare il lavoretto come ha detto la maestra e la maestra non sempre capiva che la differenza era indice di creatività di intelligenza no questi bambini sono bambini liberi che hanno dei genitori che come dire intelligenti e hanno anche dei maestri intelligenti diciamo diciamo che altri maestri li fanno fuori questi questi ambulanti insomma quindi allora questa immaginazione dell'infanzia a differenza del bambino che ovviamente rimane a giocare nella sua cameretta va a finire all'esterno va a eccedere appunto nell'ambito della vita quotidiana e oltretutto c'è anche un salto di scala perché il pesce il famoso pesce di Ernesto Iannini che voi vedete ogni volta perché è l'immagine di copertina del mio libro l'immagine di copertina è appunto una un'opera 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 performance costume di Ernesto Iannini uno degli ambulanti e voi la vedete sempre perché ogni volta che io pubblicizzo queste mie dirette ovviamente c'è la copertina del libro è chiaro che questo è un giocattolo però giocattolo nel senso alto del termine che è un costume diciamo che ha una ha una grande attitudine giocosa però però ha una una scala tipica dell'adulto non del bambino perché questo pesce era bello grande e ancora una volta appunto tutto ciò secondo me ha una valenza politica che non è ovviamente la politica di chi vuole prendere il palazzo d'inverno ma è la politica che trova nella gioia nella festa anche nel trionfo della vita benché senza alcuna coloritura superomistica o dionisiaca ma con un grande spirito libertario che dicevo prima una leggerezza quasi calviniana si oppone questa vita questa spontaneità a quelli che sono i pianificatori di professione a quelli che sono direbbe Debor gli agenti della società spettacolare e quindi insomma in questo senso poi va aggiunto anche il riferimento che recentemente Ernesto Giannini recentemente perché le altre citazioni che ho fatto invece sono dell'epoca Ernesto Giannini parla dell'inconsapevole legame tra la poetica degli ambulanti è la poetica del dono teorizzata dall'antropologo Esacioli luogo delle religioni Marcel Moss forse forse inconsapevolmente dice Ernesto Giannini ci ispiravamo a lui perché c'è molto spesso insomma si fa uso del dono materiale materiale come vedremo nelle azioni degli ambulanti veniamo ora all'analisi delle singole attitudini degli ambulanti e forse l'icona più caratterizzante dell'intera vicenda un accaso l'ho messa in copertina del libro che mi è sembrata funzionare abbastanza è appunto il pesce rosso di Ernesto Giannini il pesce rosso di Ernesto Giannini è composto da centinaia di calzini centinaia di calzini in realtà il pesce rosso però se voi vedete i calzini sono di vari colori solo che da lontano come se fossero tanti pixel poi prevale il rosso essendo un pesce rosso questi calzini sono usciti insieme con l'aiuto di alcuni bambini vedete che i bambini ci sono nel senso non come c'erano chiaramente nel teatro contadino ma ci sono comunque e Giannini li indossa questo costume e va in giro per le strade di Napoli senza disdegnare le insalubi spiagge di Bagnoli e forse questo è l'unico aspetto che vi dicevo più malinconico più notturno proprio quando ci si avvicina a Bagnoli ma ne parlerò precedente anche dopo successivamente anche se pure in questo caso insomma questo pesce così bello colorato così pieno di gioia di ispirato appunto alle feste popolari lo dice lo stesso Giannini che lui si ispira alle feste dove lo portavano i genitori da bambino nell'Interland napoletano per esempio a Qualiano a Marano e tuttavia poi quando a un certo punto Giannini decide di entrare con questo pesce nelle acque di Bagnoli allora c'era ancora Little Cedar Bagnoli non che ora sia stata bonificata però perlomeno non c'è più Little Cedar altri problemi vabbè però insomma ovviamente quando entra nel mare di Bagnoli questo pesce si sporca tutto di liquami che erano le scorie insomma dell'industria e quindi questa è un'azione che da una parte c'è probabilmente è forte proprio perché Giannini denuncia in tal modo con un atto puramente performativo credo che lo sapesse che se entrava nell'acqua si sporcava tutto il costume ma in tal modo denuncia fortemente questa situazione di Bagnoli che poi forse allora era una minaccia ma anche una grande speranza oggi poi lo è stata di più quando è stata dimessa quando è stata dismessa lì dal sider si sperava che Bagnoli potesse con la bonifica diventare qualcosa di diciamo di suggestivo che dalle che dall'orrore potesse nascere qualcosa di bello e oggi speranze io ne vedo poche ma comunque a buoni intenditori poche parole ora tornando al pesce lasciando stare Bagnoli con grande entusiasmo e con grande curiosità spesso sia grandi che piccoli gli domandano che cosa sta facendo perché vedono questo pesce che gira per la città per le strade non è un'esperienza di tutti i giorni non è che noi tutti i giorni insomma incontriamo un pesce per strada diciamo che lui rispondeva appunto che aveva il desiderio di rivivere le feste popolari alle quali lo portavano i genitori feste da condividere insieme dai segni semplici riconoscibili tanto è vero che oltre al pesce ecco la riconoscibilità è un fatto importante oltre al pesce fece anche la luna e il sole quindi elementi molto semplici primari non avrebbe fatto mai un animale poco noto insomma il pesce il sole e la luna insomma i protagonisti di quelle che sono le favole dei bambini perché poi negli ambulanti c'è sempre un immaginario appunto molto fiabbesco il pesce viene portato appunto in varie parti di Napoli che abbiamo detto a Bagnoli continua poi le sue derive alla Biennale di Venezia del 76 sempre quella di cui abbiamo parlato tante volte legata all'iniziativa di Grisporti del padiglione italiano e poi alla Biennale di Gubbio del 79 ma ovviamente non riscontra un entusiasmo un'accoglienza paragonabile a quella offerta dall'incandescente contesto antropologico campano a Cavriago e a Reggio Emilia invece cerca di fare qualcosa che in qualche modo ricorda ricorda un po' le sue attitudini quelle del pesce ma è anche un po' diversa c'è anche un'idea di scambio anche qui il dono Marcel Moss quindi l'oblatività tra lui come artista e i negozianti del luogo e tra la sua identità di campano di partenopeo e l'identità ovviamente diversa dei commercianti di Reggio Emilia perché lui costruisce diciamo una strana e goffa pila di cartoni che sono simbolo di come lui stesso racconta di una realtà precaria ma coraggiosa appunto eco della città da cui proviene si veste della sua polvere e dei suoi rifiuti persino con fantasia la città da cui proviene nel senso Napoli e quindi sostanzialmente va in giro con una montagna di cartoni addosso e così come i negozianti gli danno i cartoni di scarto che insomma hanno tolto le loro mercanzie Ernesto Lianini dichiara di restituire l'oro questo dono che è il dono dei cartoni sotto forma di segno che è appunto la sua performance gli restituiva ciò in cambio di quello che gli veniva dato allo stato grezzo è in forme cioè i cartoni singoli quindi in qualche modo dai cartoni da qualcosa di emblematicamente di scarto e Annini si faceva costruttore di linguaggio sempre a Reggio Emilia a Cavriago nell'ambito del sfuggito comunque delle tendenze d'arte internazionale organizzate da Rossanna Chiesi forse ne abbiamo parlato già qualche altra volta non è l'unico gli ambulanti non sono gli unici artisti napoletani che collaborano con Rossanna Chiesi che è scomparsa da qualche anno ma è stata insomma un'artefice importantissima nel suo territorio e sempre lì dicevo spesso il cartonaro di Ernesto Iannini è affiancato dall'uomo alato di Silvio Merlino Silvio Merlino ed Ernesto Iannini condividevano già un'esperienza precedente alla formazione degli ambulanti perché appunto un'esperienza ovviamente assai formativa perché Iannini e Merlino erano stati nella compagnia del teatro S di Gennaro Vitiello tra l'altro approfitto per ricordarlo per chi fosse interessato Ernesto Iannini qualche anno fa ha scritto un libro nel 2017 un libro che si chiama Palestre di vita omaggio a Gennaro Vitiello in cui racconta proprio la sua esperienza con Gennaro Vitiello Gennaro Vitiello è grande del teatro contemporaneo campano italiano ed europeo e sicuramente è una grande testimonianza da leggere quella di Ernesto Iannini per chi è appassionato di teatro contemporaneo e non solo accanto a queste suggestioni c'è sicuramente in Merlino in particolare una fascinazione per movimenti come Fluxus come è rinvenibile appunto da questa figura che prolunga le mani attraverso frastagliate ali costruite di giunchi e tarlatana quindi questo uomo alato e tanto ampie sono queste braccia queste ali da misurare sei metri al loro grado massimo di estensione e quindi va in giro questa grottesca particolare figura a metà tra un cielo e un angelo insomma un altro aspetto che pure rimanda assolutamente a Fluxus riguarda la formazione musicale di Silvio Merlino e insomma il suo personaggio di musicista a cattone chiamiamolo così nel senso che in altre performance lui appunto incarna i panni del musicista che reca con sé degli improbabili strumenti musicali perché sono degli strumenti musicali in qualche modo slittati deturnati costruiti in maniera bizzarra e realizza partiture fantastiche assolutamente impossibili da eseguire e però diciamo che il senso sta proprio lì nella diciamo nella forzatura di quello che è il limite del linguaggio della musica e offre queste partiture ai passanti incuriositi insomma in qualche modo rompe la grammatica della musica attraverso una importante presenza performativa spesso gli ambulanti collaborano nel resto tra di loro ci sono alcuni casi che abbiamo detto a volte lavorano insieme poi lo vedremo a volte per esempio insieme soprattutto per quanto riguarda le battute iniziali l'esperienza delle azioni sui detti di fuori grotta anche se o sui detti dell'accademia da un'esperienza del genere ho preso l'immagine per il flyer di oggi anche se anche se comunque anche quando lavorano insieme si nota sempre l'apporto dei singoli ecco in questo caso c'è un caso proprio di sovrapposizione tra due performance quella di Silvio Merlino appunto è quella di Claudio Massini Claudio Massini forse la sua azione più emblematica è quella legata al suo banchetto che si serve di un carretto a forma di stella da lui stesso costruito provvisto di 130 piccole lampadine alimentate da una batteria di automobile che tiene a via caracciolo per dieci giorni di fila tiene questo banchetto a via caracciolo sotto il mare di napoli perché non fosse napoletano e poi porta anche alla biennale di venezia e il quinto giorno di questo banchetto compare appunto questo uomo con le ali questo angelo protettore che è lo stesso Massini a definirlo così questo angelo protettore degli ambulanti mi tiene compagnia delle ore e poi scompare e quindi c'era ovviamente questo questi sporadici incontri nel loro nel loro errare per la città di Napoli Massini Claudio Massini è forse colui che più di ogni altro interpreta letteralmente il concetto di ambulante come allusione alla figura del venditore appunto il carretto a stella il carro dell'ambulante che gira o altri banchi effimeri che spesso allestisce volentieri con modalità pienamente spontanee ed abusive essi si fanno supporto per le sue estrose mercanzie che possono essere frutti e ortaggi dipinti su piani di legno plasmati con materiali come la creta oppure anche autentici alle volte stelline d'argento vasetti di terra sagome umane arricchite con vari tipi di ornamento dove al posto del capo viene inserito il ritratto fotografico di colui che l'acquista e tutto ciò può essere o barattato con altri oggetti ma anche più spesso Massini chiede una modica cifra anche se osserva senza piedi sulla lingua non sempre i potenziali acquirenti giudicano modica questa questa cifra e lui osserva questa è una una dichiarazione del tempo del 76 la gente si ferma e si interessa alla mia attività ma nessuno compiera niente ritenendo troppo elevati i miei prezzi forse perché la fatica manuale a Napoli viene sotto retribuita a causa dello sfruttamento della manodopera minorile e questo è quello che dice in occasione di una giornata in cui si mette in società con un fioraio di fuori grotta che si trovava nei pressi di un rio nelauro ovviamente nei pressi di un rio nelauro e mi piace sottolineare questa coincidenza io vi sto parlando esattamente da un rio nelauro praticamente con 45 anni di ritardo 45 anni dopo vi sto parlando proprio dai lughi di Massini e di altri da alcuni dei lughi di Massini e di altri questo fioraio sarà il discendente comunque qui un fioraio c'è ancora anche perché qui vicino come sapete c'è il cimitero come sa chi conosce un po' Napoli è fuori grotta quindi perché molto spesso Massini si associa a venditori di professione come leggere questa cosa da una parte io la vedo come una sorta di detornament del commercio se non proprio del consumo perché in effetti è come se lui proponesse un'alternativa riqualificante rispetto a quello che è il livello standardizzato delle merci ordinarie una riqualificazione che poi passerebbe per la differente qualità dell'oggetto offerto ma anche per il farsi strumento di rinnovata socialità è quello che interessa a Massini anche la socialità che si crea attraverso l'uso dell'oggetto però ci sono anche altri tipi di motivazioni perché appunto lo stesso Massini una volta mi disse che è come se sentiva e qui torniamo al discorso di Napoli come teatro a cielo aperto è come se sentisse l'inutilità di mettere di mettere in opera una situazione dal nulla perché delle situazioni appunto già esistevano e non si trattava che di per l'artista di inserirsi in queste situazioni di dire anche la sua parola magari di arricchirle però insomma non un ubus ma proprio una performatività in atto già c'era un teatro ma un teatro di strada già c'era e quindi si trattava di inserirsi opportunamente in questo teatro questo era il senso delle performance in particolare di Massini e forse anche un po' di tutti gli ambulanti spesso queste bancarelle sono tenute da Massini insieme ad Anna Maria Iodice Anna Maria Iodice è la compagna la fidanzata diciamo così per capirci di Massini e poi ne diviene abbastanza presto la moglie e perché come si dice in un manoscritto pubblicato su ricerche di base da sempre gli ambulanti si sposano tra loro come nella confraternita di pre-Raffaelliti la stessa cosa infatti avviene per altri due ambulanti di cui parleremo di qui a poco che sono Carlo Fontana marito e Marta Leonato voglie devo dire fortunatamente sono due coppie che l'una e l'altra che ancora vanno avanti e non si sono scoppiate non si sono preparate come è avvenuto a tantissime persone della loro età della loro generazione è una cosa per me bella ora ovviamente vabbè diciamo tanto più essendo compagna di Massini o meglio Massini o se preferite Massini è il compagno di Maria Anna Maria Iudice spesso fanno delle cose diciamo insieme in cui diciamo l'autorialità singola tanto più si perde no? quindi le bancarelle eccetera però è vero che Anna Maria Iudice è un artista a 360 gradi non meno di Massini o di altri e prima ancora di incontrare Massini e di incontrare gli altri ambulanti aveva una sua una sua un suo tratto molto importante da poco più che ventenne tanto è vero che loro come si conoscono si conoscono in accademia perché lei in scena una sorta di di mostra che ora non ricordo precisamente qual era Claudio Massini comincia a interessarsi a parlare e così la seduce diciamo e come dire si crea questo questo salizio nel segno dell'arte e dell'amore e credo di ricordare io poi oltre a quello che ho scritto ricordi anche di testimonianze dirette che questa occasione del loro incontro fosse proprio forse era una performance quindi non vorrei soprapporre le cose però una cosa importante di Anna Maria Iudice un evento importante per gli inizi proprio di Anna Maria Iudice è questa operazione che lei anche molto di rottura per quello che avveniva all'epoca in accademia non tanto rispetto ai professori ma proprio rispetto agli altri studenti perché vi ho detto che si facevano molte falce e martello con in maniera molto meccanica e con poco spirito creativo e lei comincia ad affiggere sui muri dell'accademia siamo nel 74 quindi ancora in anni molto caldi per la contestazione dei disegni con fatti di semplicissimi tratti in cui delinea immagini di uccelli in migrazione e la sua è una leggera ma perentoria affermazione di libertà di coscienza e di creazione appunto contro le costrizioni di un'arte subordinata a interessi di comunicazione politica ideologica che allora nell'istituto erano abbastanza in voga e credo che questa cosa fu anche non sempre capita un po' criticata vista come una cosa così da femminuccia magari intendevano bene il senso di questa operazione però Anna Maria Iodice è una donna forte e lo era allora e lo è adesso la donna è un'artista forte e continuò come dire senza battere ciglio il suo percorso in effetti io credo che due siano le caratteristiche che emergano da per essere sintetici ma poi il lavoro di Anna Maria Iodice è molto denso però sicuramente c'è un motivo importante di critica sociale condotta a partire dalla propria stessa condizione di giovane laureata in accademia e quindi dal suo futuro incerto di lavoratrice della cultura e poi c'è però anche un aspetto legato a connotazioni tecnico-formali tipicamente femminili che come vedremo che emergeranno dalle operazioni di cui parlerò di qui a poco dobbiamo considerare che le artiste donne a Napoli erano allora davvero poche vi ho parlato io già di Franca Landi e di Renata Petti vi parlerò di collettivi al femminile nelle prossime dirette legati a Rosa Panaro e a Matelda Balatresi due nomi su tutti però insomma le donne non erano morte all'epoca in Campania anche se quelle poche erano poche ma buone devo dire mettiamoci anche Rosaria Matarrese e Clara Rezzuti che sono state molto importanti anche se non c'entrano col nostro discorso sul di arte che invade la vita poliviana però sicuramente hanno fatto un lavoro sperimentale importante ora un'altra la sua vera e propria uscita verso lo spazio esterno verso la performance è dell'anno successivo del 75 con un'operazione in cui si identifica profondamente con i poeti erranti gli eremiti pensosi gli antichi mendicanti su strade deserte per sua stessa ammissione e assimila il suo fare ad una sorta di elemosina però è un'elemosina rovesciata ricordate quello che ha detto Iannini a proposito di Marcel Moss e del dono perché non si tratta di un chiedere per avere ma si tratta di un dare un biglietto con un cuore scrive sempre Anna Maria Iodice una stella un uccellino in volo come un saluto cerimoniale quindi tutti i piccolissimi gesti vedete ritorna questa bellezza del piccolo il piccolo come diversa bellezza rispetto alla composità della bellezza intesa come qualcosa di grande io lo so e sullo sfondo poi c'è sempre comunque nelle sue operazioni vi dicevo il grave disagio della sua generazione che già insomma si avvertiva negli anni settanta l'inversione insomma di quello che era il clima che era stato diciamo così propizio per le conquiste dei lavoratori si era arrivato qualche anno prima alle allo statuto dei lavoratori di cui mi pare che quest'anno avremmo dovuto festeggiare i 50 anni però il lockdown non ha un po' diciamo così pregiudicato questi questi festeggiamenti però se vi ricordate nel gennaio 1980 in Italia avviene la marcia dei quadri alla Fiat di Mirafiori e quindi le prime sconfitte del movimento operaio insomma gli anni ottanta sono dagli anni ottanta in poi noi vediamo un lento ma radicale arretrare delle conquiste dei lavoratori è un problema purtroppo di grandi attualità quando io dico è un problema di grandi attualità dico sono frasi molto eufemistiche poi c'è qualcuno che ha detto che col decreto di unità si era abolita la povertà ma insomma noi veniamo da decenni e decenni di contro riforme e ancora ce ne vogliono far fare insomma che lo sappia ma non mi addentro oltre però insomma è interessante che che Anna Maria Odice faccia questo discorso e lo faccia a partire dalla cultura perché poi nel nel 2002 esce un libro molto interessante da questo punto di vista che conferma le intuizioni della Iodice penso a grammatica della moltitudine di Paolo Virno il quale Paolo Virno filosofo napoletano vivente a Roma da molto tempo filosofo post-operaista insomma che era stato nei movimenti degli anni 70 del 77 Paolo Virno dice appunto questo che il sistema diciamo precarizzante post-fordista ecco diciamo così legato alla flessibilità dei tempi di lavoro e all'incertezza diciamo pure dei tempi di lavoro è stato è stato un paradigma che poi è stato dagli anni 70 in poi è stato portato in tutti gli altri settori del lavoro quindi l'artista lavoratore come il paradigma dell'estrazione di plus-valore in ambito post-fordista quindi quando Anna Maria Iodice fa questo discorso fa veramente un discorso di grande presa su quello che poi sarà il futuro e diciamo sullo sfondo di questa sua polemica vanno anche viste operazioni come per esempio i banchetti in cui rilascia dei diplomi immaginari oppure dei diplomi immaginari per meriti diciamo inventati particolarmente ironici oppure il banchetto del paradiso per cui insomma lascia passare sempre diversi rilascia passare sempre diversi per il paradiso per esempio questa è un'azione urbana fatta se la vedete appunto in questo banchetto e questo lascia passare per il paradiso veniamo a Giuseppe Zevola Giuseppe Zevola pure è un ambulante che si pone molto come venditore donatore però a differenza di un Massini le sue mercanzie tra virgolette sono estremamente povere ed essenziali non che quelle per carità di Massini fossero ricche però in Massini c'era c'era comunque una diciamo materiali poveri che però avevano una certa ricchezza erano materiali che 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 davano dei quali comunque ricava una ricchezza di forme di colori invece Zevola è molto se vogliamo molto più freddo quasi ricorda quasi la la smaterializzazione di certi artisti concettuali anglosassoni ovviamente per certi versi per altri no gli artisti anglosassoni non hanno nulla di performativo insomma e anche anche la sua scelta per esempio di 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 come come il fumo la pioggia lui per esempio vende delle delle pietre riscaldate col calore e col calore delle mani e le le pone in le pone in vendita con un cartello come se fossero dei pomodori e sì questa ovviamente c'è tutto un un ribaltamento una cosa che questa cosa che l'artista anglosassoni non avrebbe mai fatto quella di di simulare la vendita dei pomodori però quando poi per esempio vende gocce di pioggia sì certo c'è qualcosa di più romantico di più poetico rispetto per esempio al che ne so alle opere fatte con con le onde invisibili di Robert Berry tanto per dirne una per dirne una tra mille però però comunque c'è anche un'essenzialità una tendenza alla sparizione che in altri ambulanti vedo di meno e oppure vende fumo ovviamente anche qui da una parte c'è il discorso dell'immateriale però c'è anche l'aspetto ironico coliardico e che quindi diciamo va subito se tu pensi all'artista concettuale anglosassoni poi subito diciamo questo questo riferimento viene negato dal dal riferimento popolare al detto vendere fumo come fa a vendere fumo vende fumo attraverso dei coppetielli già i coppetielli sono molto poco high tech sono molto poco concettuale angloamericano e in questi coppetielli di carta catramata ci mette acqua e ghiaccio secco in maniera tale da far uscire la sostanza gassosa ancora qualche altro qualche altra situazione memorabile per esempio quella in cui è seduto su un tappeto di piume quasi fosse una sorta di tappeto volante e qui torna l'idea del fiabbesco e in compagnia di un gruppo di vispi bambini racconta loro delle storie fantastiche quindi ritorna la fantasia la fiabba il bambino eccetera poi c'è un'altra performance interessante che è una performance diciamo così firmata Zevola Trattino Massini in cui lui tornato per la licenza del servizio militare lui Zevola si adagia ancora in divisa su una brandina da caserma nel bel mezzo di un condominio di bagnoli e si mette a dormire mentre Massimi lo osserva i condomini ovviamente sono colpiti dall'incongruità della scena perché è quasi una sorta di natività resa ancora più auratica dalle luci natalizie che gli stanno a fianco e addirittura c'è chi lascia lì dei doni quasi fosse non lo so un santo o qualcosa da venerare comunque è una presenza estremamente incongrua nel condominio di bagnoli e qualcuno che diciamo ha un atteggiamento un po' più disincantato un po' più in contravergolette rimane un po' sconvolto e domanda Massini cosa sta facendo dice che stai a fare tu lì e Massini risponde sto guardando il mio amico che è tornato dal servizio militare e così semplicemente insomma una domanda fatta cioè una risposta che viene data stando al gioco insomma ovviamente Massini non avrebbe mai sciolto l'enigma avrebbe cioè fa finta che tutto sia tra virgolette normale e Massini testimonia recentemente dicendo questo questa azione parla della loro amicizia è un omaggio che loro stessi si fanno la loro amicizia levano la loro amicizia unico tra gli ambulanti ad essere passato per le aggregazioni di Luca è Carlo Fontana e per le aggregazioni di Luca e anche per un percorso di militanza politica anche se come dire per quanto ci sia qualcosa di almeno in alcune azioni iniziali di più politico nel senso stretto nel senso di contestazione ecco diciamo così comunque vediamo che è sempre molto comunque abbastanza diverso dal dalla proparte dall'OCT insomma da altre cose esperienze più vicine a Luca partiamo da alcune performance che vengono prima del suo approdo agli ambulanti sono due in particolare attraverso le quali lui dice io cercavo di depurare la body art dalle sue connotazioni borghesi traducendo le sue possibilità in forme spendibili in favore della causa del proletariato vedete lui è il più legato appunto forse l'unico più decisamente ad un tipo di militanza più spesitamente politica due casi in particolare una è un'azione che si svolge con un enorme ragnatela legata a un albero che avviluppa numerosi altri operatori fino a schiacciarli questo avviene in una piazza onde denunciare la distruzione della natura perpetuata dall'uomo già all'epoca gli anni settanta gli anni di incipiente coscienza ambientalista insomma si sentiva già allora una sensibilità per certe cose per certi aspetti la seconda operazione prima dell'approdo agli ambulanti è la sua scandalosa uccisione di Cristo sicuramente c'era un eco in cui lui praticamente un eco di Nietzsche Pierman Nietzsche perché appunto lui si denuda si pone in croce e si pone nel cortile dell'accademia però voleva essere un riferimento a Nietzsche comunque appunto come aveva vi ho detto prima slegato dal diciamo dal dalle connotazioni borghesi che poteva avere potevano avere i grandi performer comunque di un certo nome per quanto allora anche Nietzsche facesse scandalo in quegli anni c'era stato insomma c'era stata la 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 mostra di Nietzsche ora non ricordo bene gli anni comunque erano i primi anni settanta la mostra di Nietzsche allo studio Morra di Peppe Morra in cui lui aveva messo in scena il famoso teatro delle orge e dei misteri e era stata chiamata la polizia per cui insomma non è assolutamente come oggi per quanto oggi uno lamenti un un ritorno al diciamo a a a un nuovo a una nuova facilità a scandalizzarsi che qualcuno chiama stra politicamente corretta però insomma allora certe cose erano abbastanza ardite da fare Carlo Fontana dice mi ero messo in testa che la rivoluzione doveva passare anche attraverso l'abbattimento della religione e così in particolare motiva questa operazione quindi la connotazione politica in questi due avvenimenti in questi due primi esperimenti è più esplicata in termini differenti da quelli di Luca anche se c'è invece nelle operazioni successive già all'interno degli ambulanti sicuramente questa vena più politica un po' anomala per il gruppo degli ambulanti si va perdendo in favore di una di un fare più disteso meno legato alla denuncia in particolare lui si definisce l'ambulante del colore perché l'ambulante del colore perché per esempio a Bagnoli tanto per cambiare lui va a distribuire tessere di mosaico all'interno di una cesta di un carretto devo avere se non sbaglio no non ce l'ho l'immagine qui e tessere di colore che sono appunto una sorta di gioia materializzata che lui che lui va a a distribuire alle persone che passano questo nel 76 nel 77 invece è un'altra un'operazione un'operazione veramente teatrale che è molto sconfina nel teatro Atlantide e si tratta anche però di un trionfo degli ideali libertari e comunitari dell'epoca una vera e propria prova teatrale ma anche di di superamento dell'arte nella vita quotidiana perché per un giorno intero appunto a Monte di Procida siamo quindi ancora nella zona Flegrea Monte di Procida per chi non fosse campano è una zona montuosa che si trova non a Procida ma nella nel continente e però costeggia cioè fronteggia l'isola di Procida ed ecco perché si chiama Monte di Procida comunque a Monte di Procida questo gruppo di persone ognuna interpreta un personaggio differente tenta di dar vita ad una sorta di mondo meraviglioso e ciò avviene un po' mischiando da una parte le suggestioni degli antichi miti di quelle antiche terre che insomma quale area in Campania più dell'area Flegrea è legata insomma al mito alla alla Grecia no lì si trovavano una concentrazione di colonie Puma eccetera eccetera e dall'altra però ci sono anche echi della quella che però poi non era ormai più nuovissima cultura degli ipis no con tutte le implicazioni che questo comportava la questa idea di vita staccata dalla civiltà o cosiddetta tale una vita legata alla natura libera dai tabù libera dal dal lavoro oppressivo dalla routine dalla tecnologia insomma e quindi diciamo che Fontana Carlo Fontana mette in scena una grande utopia con Atlantide compagna e poi moglie di Carlo Fontana e Marta Leonato che oltre alle modalità linguistiche tipicamente femminili che abbiamo riconosciuto in Anna Maria Iodice affronta tematiche direi proprio la parola la direi femministe perché allusive alla condizione di minorità della donna questo avviene per esempio di minorità della quale ovviamente si vuole riscattare questo avviene ad esempio nella sua azione che tiene alla biennale di Venezia del 76 sempre quella dove va in giro con un tipico cesto di vimini che contiene il corredo dei neonati cioè tipicamente questo cesto contiene il corredo dei neonati ma nel caso di Marta Leonato contiene dei fogli a 4 forati con la bucatrice quasi ad imitare merletti quindi instaurando una sorta di cortocircuito tra la donna madre e la donna lavoratrice impiegata perché Marta Leonato era una donna lavoratrice e impiegata perché era allora assistente della galleria di Learuma a Napoli allora Learuma per chi non lo sapesse molti di voi lo sanno non saperlo esisteva e aveva una sede a Napoli magari si è ascoltando qualcuno più giovane non si può mai sapere e sempre alle prospettive di liberazione del soggetto femminile allude un'altra azione in cui reca un cesto pieno di garze da donare alle donne che incontra scrive lei garzine liberatrici garzine annodate come lenzuora per evadere dal carcere per liberarsi da questo discorso della maternità come un fatto naturale anzi non è una cosa che scrive lei è una testimonianza che mi ha reso sette anni fa a Cassiero in provincia di Treviso dove vive adesso quindi è anche una critica del ruolo ancora una volta del ruolo diciamo imposto della società per la donna quello di essere assolutamente madre e questo questo diciamo al di là di questa critica dell'essere madre però anche lei comunque diventa madre abbastanza presto tant'è vero che la sua sua figlia sua è di Carlo Fontana la piccola ambulante Mariangela Fontana diventa protagonista semi consapevole di un'altra performance che questa volta coinvolge un po' tutti gli ambulanti perché appunto ogni ambulante fa qualcosa mette un piccolo contributo al fine di costruire questo piccolo giardinetto dove Mariangela da libero sfogo alla sua fantasia ai dire al disegno eccetera eccetera e però la cosa più importante è che dà un senso forte a questa operazione un senso cortocircuitante a questa operazione è il fatto che tutto ciò avviene davanti al piazzale della Nato di Bagnoli come a lanciare una provocazione ironica anche se non asprebbe farda perché comunque stiamo parlando appunto di del contrasto che c'è tra l'inespignabile fortezza militare e ienchi la quale sarà sempre moralmente verdente dal mio punto di vista rispetto al piacere del disegno di una bambina pura e innocente ecco è la stessa una simile logica contrappositiva si instaura allorché nel 1979 Marta Leonato va a disegnare sagome di farfalle sulla spiaggia di Bagnoli ormai terribilmente compromessa dalle scorie dell'Ital Cedar per dire che insomma c'è molta malinconia perché lei disegna sagome di farfalla però insomma come possibilità di come un poter essere alto come un volare via insomma da quella da quella da quella situazione di di terribile degrado che che è Bagnoli che è la spiaggia e e però appunto resta resta comunque una una impossibilità poi che che rimanere ancorati a quella situazione di degrado infine ottavo e ultimo ambulante è Roberto Vidali che futuro direttore di Giuliett Art Magazine molti lo conoscono in questa veste però è stato anche un ambulante anche se lui era del nord Italia ha studiato a Napoli è stato vicino a Peppe Desiato vissuto nel suo studio e tuttavia insomma faceva parte integrante degli ambulanti però già allora era più votato all'organizzazione e alla teoria che alla produzione artistica che comunque è diciamo un po' più limitata rispetto a quei altri suoi compagni di strada non di meno a lui si deve un'azione che rientra a pieno titolo negli esiti più alti dell'operatività degli ambulanti ovvero quella in cui indossa prima una giacchetta e poi in un secondo momento un mantello ricoperto di barchette di carta e va deambulando nella sua incongrua figura così abbigliato sia attraverso le strade di Napoli sia attraverso i giardini della pienale e distribuisce dei rotolini di carta contenenti dei messaggi ma fatti in maniera tale che nell'aprile si rompano inevitabilmente e pertanto questi messaggi devono essere poi rimessi insieme ricostruiti bisogna fare un'opera di ricostruzione dei frammenti ora io lo so che vi ho tenuto già abbastanza però devo tenervi ancora un pochino devo tenervi ancora un pochino perché gli ambulanti sono veramente tanta roba insomma sono veramente hanno veramente una produzione densa oltre che molto sostenuta qualitativamente e è anche lungo proprio cronologicamente il loro percorso gli ambulanti così come anche il gruppo salerno 75 o come altri gruppi risentono chiaramente di quel declino del sociale che poi porterà alla scomparsa del sociale in molte opere in molte azioni della fine degli anni 70 si nota appunto un certo arretramento sul piano della partecipazione sì il riflusso imminente legato alla reazione padronale il delitto moro che sicuramente cambia cambia molto le carte in tavola nel 78 questi sono questi altri motivi la fine della diciamo del credere nella prospettiva di un cambiamento legato anche a fattori politici parlamentari o extra parlamentari che siano c'è il declino sia del PC il PC che delude con il governo con l'appoggiare il governo Andreotti dopo la vittoria del 76 ma anche i movimenti tutto sommato poi con il processo legato agli autonomi insomma il teorema Calogero e tutte queste robe qui ovviamente la situazione cambia molto radicalmente anche le prospettive politiche è un movimento che era molto legato a certe uno slancio verso un altrove un altrove di carattere politico risente di tutto ciò e ne risentono anche gli ambulanti un'operazione che sia chiaro quando mi opero dico ne risento non è che non è che che io dico che queste operazioni di cui parlerò ora sono meno interessanti di quelle di cui ho parlato prima semplicemente è come se più o meno inconsapevolmente introiettassero questa crisi questa crisi della partecipazione però io come credo di aver detto già qualche altra volta a me i momenti di crisi piacciono anche dal punto di vista della produzione artistica e anzi io credo che sia buona cosa che gli artisti facciano confluire nelle proprie opere si faccia un'espressione di momenti di crisi faccio un esempio questa performance ancora del 77 di Claudio Massini provare a essere una fontana galleggiante così la racconta lui in questa testimonianza inedita che mi ha reso nel nel 2013 sempre a Cassier a Treviso perché anche lui con la moglie abita a Cassier avevo deciso di fare un lavoro in una fontana però non tanto come una scultura dentro una fontana ma provando a essere io scultura dentro la fontana che cosa provano le sculture che sono dentro una fontana che cosa prova il tritone del Bernini avevo visto che nell'immondizia c'era questo grosso pezzo di polistilorolo che galleggiava allora ho messo dentro l'ho messo dentro l'ho colorato di terra rossa mi sono colorato io stesso di terra rossa ho costruito con la carta solita che mi piaceva per forza espressiva perché ricordava la carne e il presepe una carne rossa che è quella che viene usata veniva usata non so se è anche ora per le arance mi sono fatto un vestito e ho cominciato a galleggiare su questa fontana questa fontana che si trovava nella mostra d'oltremare ovvero quindi parliamo di la mostra d'oltremare si trova a fianco allo stato di San Paolo siamo insomma nella zona più occidentale di fuori grotta quasi cavalleggeri quasi quasi bagnoli il lavoro consiste semplicemente nell'essere io una fontana galleggiante non aveva nessuna pretesa ma aveva la forza di poter guardare il mondo come se io fossi una fontana e veniva di tanto in tanto qualcuno era incuriosito e poi se ne andava e poi chiosa la storia di un fallimento quindi la storia di un fallimento in che senso la storia di un fallimento la storia di un fallimento nel senso che non ha provocato quel surplus di partecipazione che magari si aspettava anche se diciamo così che comunque non c'era solo la partecipazione lui c'era anche quest'idea di identificarsi con la statua vivere le sensazioni di una statua un'altra azione che pure sul piano proprio della partecipazione è un po' anomala appunto rispetto a quello che solitamente finora abbiamo sentito facevano gli ambulanti perché avviene nell'abitazione privata di Claudio Massini e nell'anno successivo nel 78 l'azione del cervo umano e del cervo sacro è una sorta di tableau e van Massini appunto fa che chiamare un pubblico ristretto e Massini si veste da cervo sacro il cervo sacro si distingue perché ha le corna adornate di fiori mentre Ernesto Iannini interpreta il cervo umano adornato con dei frutti e alternativamente prima l'uno e poi l'altro entrambi sono stesi a terra non contemporaneamente però prima l'uno e poi l'altro e appunto gli altri ambulanti nonché i pochi intimi che sono stati coinvolti lo mirano questa performance un'altra un'altra esponente degli ambulanti in cui molto si nota questo che intoretta proprio questa crisi perché è anche una crisi molto personale perché lei nel 77 Anna Maria Iodice comincia a insegnare al liceo artistico di Benevento e intraprende così una dura vita da pendolare quando uno comincia a insegnare quando comincia a lavorare la scuola allora come oggi risucchia tante energie quindi è come se uno diventasse un po' tristemente adulto insomma io Anna Maria la capisco quando mi ha fatto questo racconto sempre nel 2013 capisco quello che può avere provato però lei appunto non si rassegna anche se ha meno tempo sicuramente per stare sul territorio napoletano campano cerca comunque di continuare la sua ricerca in altro modo per esempio siccome anche altri sono pendolari anche se non sono artisti e non hanno una formazione artistica cerca di coinvolgere i colleghi che condividono appunto la stessa sorte in performance basate su poesie immagini discorsi che appunto coinvolgano i pendolari nel treno che fanno che fanno altri lavori però comunque hanno un interesse per l'arte c'è poi una una performance però abbastanza diciamo senza pubblico un'altra performance che lei fa in casa sua l'unico altro essere vivente che l'affianca e poverina inconsapevole perché aveva pochi mesi è Chiara Massini figlia di di Claudio Massini e di Anna Maria io dice che saluto così come saluto tutti gli ambulanti che spero mi stiano guardando quasi tutti ma credo anche Chiara mi stia guardando anche lei è stata una piccola ambulante come Maria Angela e in pratica questa performance addirittura del 1981 si chiama Tristi Trovici ovviamente riferimento alla famosa opera di Claude Lévi-Strauss è una sorta di rappresentazione mi testimoniava Anna Maria Iudice di una vita che era cambiata di botto già che Claudio Massini si era dovuto trasferire al nord per lavoro il gruppo degli ambulanti era ormai dissolto quindi ci si vedeva poco e sentiva un po' un senso di solitudine schiacciamento sulla vita dura da vendolare sulla vita massacrante da vendolare nonché la recente maternità affrontata anche da insomma da sola nei primi mesi e quindi cosa fa nella grande cucina della sua casa che si trova nel centro storico e affaccia in un antico giardino con alberi secolari dispone un telone che attraversa questa cucina diagonalmente su di esso sul telone trasferisce con poche linee l'aspetto sintetico di questa misteriosa interlocutrice la montagna animale le foglie infiltrate d'aria ora sto leggendo la sua testimonianza dell'81 tristi tropici accanto a lei accanto a lei compio le azioni del mio vivere quotidiano con mia figlia guido la sua manina tra le foglie dalle quali emergono i fiori e i frutti del giardino fisico preparo da mangiare disegno e studio sul tavolo nel quale in blu ho dipinto la scritta tristi tropic e ho tagliato cartoni sui quali ho scritto la parola episteme quasi evocare una possibilità insita nella cultura a rivelare in queste mosse quasi una partita a dama in questi misteriosi punti esistono legami fra le varie dimensioni del mio essere quindi in qualcosa sì resta l'aspetto performativo però poi c'è anche molto di anche se vogliamo anche di di concettuale e di autobiografico e quello che però ci interessa è tra le altre cose secondo me questa questa performance chiamiamola ancora così è proprio indice di una sorta di canto del cigno nel senso che nel bene o nel male è passata un'epoca della vita è passata un'epoca della storia è passata un'epoca della creatività artistica a livello mondiale non solo per quanto riguarda la vita di Anna Maria Iodice o degli ambulanti ancora siamo veramente alle battute finali è da Ernesto Iannini da come si evolve il lavoro di Ernesto Iannini che possiamo scorgere altri elementi di questa crisi dell'arte nel sociale analizzando la sua partecipazione alla Biennale di Gubbio del 79 cosa fa alla Biennale di Gubbio? lui riproduce una porta di calcio in scala 1 a 1 lui non è dice chiaramente io non sono un tifoso di calcio non sono molto tifoso però il calcio mi piaceva praticarlo a livello dilettantistico quindi insomma ci aveva in testa gli era familiare il calcio pone questa porta nella piazza dei consoli appende alla traversa la sposa per virgolette che lui descrive come un personaggio un po' metafisico sto citando gli annini da una testimonianza che ha avuto da lui a Milano dove vive adesso tuttora più o meno una decina d'anni fa poco meno di un personaggio un po' metafisico perché appunto aveva una veste a panier quasi dechirichiano anzi sabiniano quindi il fratello di dechirico fatto di stoffe e nel volto maschera di scaglie sempre di stoffa nel contempo contro i annini bruciavo in un catino appoggiato su un trescolo di metallo le immagini dei santini e dei calciatori come un ritmo in un rito religioso il sacerdote con il suo turibolo aspergeva incenso io liberavo nell'area le immagini della mia simbologia partenopea ecco la questione di Napoli e del calcio sì non c'era ancora Maradona il Napoli in quegli anni 79 non credo che se la passasse benissimo insomma però sta di fatto che ne parlavo tra l'altro con una mia amica proprio pochi giorni fa dicevo cosa sarebbe successo se un'altra squadra avesse vinto la Coppa Italia sarebbe stata la stessa cosa ma forse sarebbe stata la stessa cosa fino a un certo punto secondo me per quanto il calcio sia lo sport nazionale a Napoli forse un po' di più tra l'altro al di là della mia opinione è proprio l'opinione che pronuncia Ernesto Iannini quando dice non è esagerato affermare che nella passione calcistica c'è un investimento quasi totale dell'io e a Napoli tutto ciò si percepisce ancora più che in altre città lui da 40 anni a Milano avrà le sue buone ragioni per dire questo tra l'altro non si è visto neanche il periodo di Maradona perché era già al nord Italia insomma accanto a questo rito pagano che svolgevo più volte nell'arco della giornata continua Iannini le persone potevano sentire l'incenso odore l'intenso scusate odore di fenolo della creolina collocata in un altro bacile proprio la stessa che in alcuni vicoli della città veniva usata per disinfestare e derattizzare le strade almeno negli anni 60-70 insomma la stessa sostanza che anche Thomas Mann evoca nel suo Morte a Venezia che ha letto Morte a Venezia il cavolavoro di Thomas Mann sa bene cosa sto parlando ecco tale operazione continua ancora Iannini lo porta a conoscere più da vicino la dimensione antropologica della mia città a creare innanzitutto attraverso il lavoro le condizioni di una dimensione di distacco dalla mia appartenenza socioculturale ovviamente non per disconoscerla ma per portarla su un piano di coscienza attraverso una strutturazione simbolica e rituale che soltanto l'operatività artistica poteva darmi quindi in qualche modo è come se lui stesse anche un po' prendendo coscienza verso l'operatività artistica di questa sua napoletanità se ne stesse liberando ma la stesse anche capendo del resto lui era uno appunto vi ho detto a cui piaceva il calcio ma non è un tifoso quindi insomma forse c'è un rapporto di diciamo di amore ma anche di distacco anche perché questo progetto derivava da un precedente filmato che scrive Iannini cioè testimonia Iannini sempre quella testimonianza di dieci anni fa avevo girato in occasione della partita di calcio del Napoli premette che non è un tifoso e infatti andai a quella partita del Napoli allo stadio con voluto di stacco per osservare tutto ciò che girava attorno a questo evento e uno stadio con 80.000 persone c'era una grande tensione che i tifosi manifestavano e insomma e lui dice che quindi questo questa sorta di rito che mette in scena dubbio è un rito di liberazione proprio da questa tensione da questa tensione eccessiva io che diciamo da tanti anni da decenni adesso un po' meno abito vicino allo stadio San Paolo perché il rione Lauro è vicinissimo allo stadio San Paolo per un periodo avevo persino ma da adolescente avevo persino l'abbonamento al Napoli un periodo in cui il Napoli faceva assolutamente schifo come non è mai fatto nella sua nella sua centenaria quasi storia calcistica posso testimoniare che effettivamente è una tensione che a me mette anche un po' di fastidio di ansia perché tu ti senti veramente travolto io poi abito appunto in una casa con un piccolo giardino dal quale passano orde di tifosi e quindi capisco benissimo la sensazione di Iannini che ha voluto provare a riflettere su questo su questo carattere antropologico che insomma che che proprio si tocca con mano quando quando vivi a Napoli ma tanto più come me vivi a Fuoricrutta vivi a San Paolo vivi nei pressi del San Paolo poi diciamo che una delle cose che che non è che non è ripartita come sappiamo che non è ripartita come sappiamo è la non il calcio non la serie A ma gli sta il pubblico della della serie A gli stati non sono pieni quindi questo mi ha risparmiato questa tensione nel giorno della della Coppa Italia perché insomma qui persino il rione Lauro diventa un parcheggio a pagamento a proposito di ambulanti mercanzi a scambio quando 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 gioca il Napoli e vabbè questa è una piccola nota di colore che ho voluto aggiungere se non che appunto tornando e chiudendo con gli ambulanti lui fa tutta questa riflessione sulla sua città e la fa non a caso cercando ancora di più un distacco probabilmente in un posto distante anni luce a Gubbio e riconosce che appunto tutto ciò a Gubbio ha i suoi limiti nel momento in cui la performatività di queste azioni poetiche sono ancora parole sue entrava senza preavviso nel tessuto sociale di Gubbio e quindi un tessuto culturale e storico del tutto differente dal suo stando europeo quando pensiamo a Gubbio pensiamo a San Francesco pensiamo ad una cittadina che ancora fino a poco tempo fa era diciamo alla sinistra cosiddetta radicale prendeva percentuali bulgare e esprimeva il sindaco ora non so come vadano le cose insomma quindi parliamo di un ambiente antropologicamente culturalmente lontano lontano anni luce parliamo di un ambiente ordinato che ha ben altro che pure comunque è legato se vogliamo anche lontanamente a quella poetica del piccolo poi perché questi paesi sono abbastanza ordinati e piccolo che aveva che diciamo che qualcosa di questo di questa piccolezza c'era anche abbiamo detto nella poetica degli ambulanti però è proprio un'analogia abbastanza esile e anche in questo caso intendo sottolinearlo notiamo che c'è una sorta di problematica legata alla partecipazione una sorta di cortocircuito tra proposta di un soggetto ambulante e grado di partecipazione del pubblico che appunto annuncia i tempi molto diversamente motivati sul piano politico e sul piano artistico che verranno io con questo ho finito non vi trattengo oltre vi dico solo che la prossima volta parliamo di un altro gruppo fatto di più operatori che lavorano sia individualmente ognuno con una sua poetica sia insieme anche se a differenza degli ambulanti è un gruppo che ha uno zoccolo duro e poi ha altri che escono e entrano insomma quindi è ancora più complesso per certi versi degli ambulanti da raccontare ed è il collettivo linea continua terra di lavoro e quindi se insomma per essere molto diretti quando parliamo di Salerno diciamo che l'emblema dell'arte nel sociale a Salerno e nel salernitano è sicuramente il gruppo Salerno 75 se invece parliamo facciamo la stessa domanda in ambito casertano sicuramente l'ambito casertano sul piano dell'arte nel sociale della seconda metà degli anni 70 ha espresso fondamentalmente il collettivo linea continua terra di lavoro diciamo che un po' tutti quelli che o tutti gli operatori che erano interessati a un certo tipo di poetica sono passati in quegli anni per questa aggregazione che vivevano in area casertana intendo va bene io vi saluto vi ringrazio per avermi seguito spero di essere stato comunicativo e interessante la materia era veramente tanta ed ecco perché mi sono preso più tempo poi chi vuole seguire due ore segue due ore chi ne vuole seguire una ne segue una chi vuole seguire 5 minuti segue 5 minuti arrivederci con il collettivo linea continua terra di lavoro la settimana prossima stessa ora e stesso canale facebook ovvero la mia pagina arrivederci qui è la mia pagina